ascoltate le parole di saggezza che il fonografo vi dirà perché il supplemento domenicale a colori e quanto di meglio ci sia al mondo facilissimo è un arcobaleno di colori un sogno di bellezza una cascata di risate una cosa giusto e preciso io sono perfettamente d'accordo c'è lo yellow kid più divertente che mai che danza e canta istancabilmente cose da non credere grazie mille perché il supplemento a colori della domenica è come una bella ragazza perché un bocciolo e si vede il fonografo è una meraviglia silenzione sono stufo di questa soffocante scatoletta yellow kid spesso è ricordato come il capostipite del fumetto qualcuno lo identifica con il primo personaggio a fumetti in generale in realtà non è esattamente così yellow kid non fu neppure il primo personaggio a parlare per mezzo delle nuvolette questo lo avevano già fatto molti protofumettisti inglesi non era neanche canonizzato come intendiamo oggi il fumetto yellow kid era un veicolo per immagini e strisce satiriche e spesso si esprimeva per slogan scritti sul suo camicione giallo come la battuta sull'onda populista del presidente repubblicano william mckinley eletto lo stesso anno in cui esordiva yellow kid quest'ultima deve essere stata l'ondata mckinley ecco una buona idea per una caricatura politica alla fine dell'ottogento nell'ambito di questa nuova forma espressiva l'america era rimasta indietro rispetto all'europa la spinta in avanti per la nascita del fumetto americano stranamente non arrivò tanto dagli autori quanto dagli editori alla fine del diciannovesimo secolo iniziavano a uscire riviste domenicali prima non si usava in osservanza della festa fu joseph pulitzer ad avere l'intuizione che un supplemento domenicale potesse conquistare nuovi lettori per il suo giornale il world che cosa fece pulitzer aumentò l'uso del colore e cominciò a dare spazio a quelli che in europa si erano iniziati a chiamare cartons ed è sul suo giornale che nasce yellow team di richard felton out colt del 1896 a credere ancora di più nel potenziale dei cartons non fu però pulitzer ma un'azienda concorrente quella gestita da william randolph hirst che pubblicava il martello giurano hirst era un vero pesce cane che da un lato riuscì a comprarsi tutto lo staff del concorrente world ma che sette anche creare sinergie con gli autori portando il fumetto a una forma molto vicina a quella che intendiamo oggi come fumetto moderno richard out colt il creatore di yellow kid avrebbe spiccato il volo con le avventure di un altro bambino terribile buster brown nato nel 1902 che in italia sul corriere dei piccoli sarebbe stato chiamato mimmo mammolo buster brown si presentava come il tipico ragazzino della borghesia d'inizio secolo capelli a baggetto vestitino impeccabile come compagno di avventure aveva un cane di nome taigi cane parlante e dotato di espressioni facciali umane le storie di buster brown consistevano in marachelle messe in atto da buster per le quali finiva in punizione o in situazioni marazzanti perché ti pigi di bianco e petardi sto preparando le candele da mettere nella torta del compleanno del pupo sembrano troppi le candele bene in cima ci ho messo un poco di cera sono proprio orgogliosa di questa torta ma non ci sono le candele caro ti spiacerebbe fare un salto a comprarmi due candele eccole grazie caro ecco che arriva la torta caratteristica delle storie di buster brown era la morale conclusiva una vera e propria pagina di diario come se il personaggio prendesse appunti per ricordare l'insegnamento ricevuto praticamente il commento finale dell'autore avrebbero dovuto essere degli inviti ai bambini a mettere in giudizio ma a volte venivano fuori cose abbastanza forti soprattutto se pensiamo che stiamo parlando di un fumetto dei primi del novecento non è patriottismo sparare petardi o pistolettate dare fuoco alle case buonfiare gli occhi degli altri e picchiarli sulla testa questa è la solita passione americana per la confusione per la malvagità gratuita e per il chiasso rumore e disordine non hanno a che fare con il patriottismo più di quanto abbia a che fare dio con la teologia o la giustizia con la legge in un altro episodio la mamma di buster riceve la visita di un'amica un'altra signora che si porta dietro la figlioletta una bambina che ha la stessa età di buster i due bambini giocando fanno qualcosa di assolutamente innocente si scambiano i vestiti e si truccano per assomigliare l'uno all'altra quando le mamme li vedono li sculacciano tutti e due mentre i bambini piangono tenendosi per mano botte a due bambini solo perché si sono scambiati i vestiti per gioco che cosa dice la morale finale chiama in causa il filosofo herbert spencer e il politico william drammond tutti e due inglesi herbert spencer dice la vita consiste nell'adattarsi a ciò che ci circonda william drammond dice la felicità e la perfetta armonia con le proprie attitudini dico io quando penso di fare un botto e la mamma che prende a botte a me ma non importa voglio essere felice seguendo le mie attitudini qualcosa da ridire erano gli inizi del ventesimo secolo e il fumetto si stava assestando a metà strada tra l'intrattenimento satirico per gli adulti e il divertimento per bambini in ogni caso era un mezzo di comunicazione nuovo nel quale si potevano nascondere anche messaggi di questo genere che per l'epoca erano rivoluzionari che per l'epoca